Sono già sistemate qua? Sta scendendo? No! No, non lo vedo! Lo vedo! Ragazzi, è arrivato! Fatemi sentire! Ma è il centro con lezioni? Ehi, senta lì! Benvenuto! Benvenuto, Marco! Benvenuto! Di potenza vocale, incredibile! Marco, sono a coeriggere che aspetta, ora si sono divertite tantissimo! Io mi sono vissuta legante per l'occasione! Grande! Ma non fa benissimo così perché loro si sorrezzano! C'è? Un sacco di estremamente! Terremamente chic! Terremamente chic! Scifferia! Io ti lascio subito perché... E allora, come l'avete seduto, Marco? Adesso vi attende? Per... Come fare la copia del disco? Mi raccomando! Scartate il disco! Scartate già il disco! Potete in cielo fare in maniera là! Adesso...